Grallo attacca Grallo tirano in tre direzioni diverse Eccezionale in modo che non si possa più difendere Capito? In questo modo lo bloccano Quello e l'altro girano intorno fino a che Ed esce il primo taglio C'è però che devono mandare il segnale al gruppo Per poterlo Ecco quella è partita Ce n'è una è andata al formicaio E' super eccitata Ora proviamo alla strada Manderà il segnale Ecco allora è partita un'altra è andata la Cioè chi è il messaggero? Ecco ecco una di quelle lì è entrata al formicaio Vediamo se Ecco ecco infatti Arrivano arrivano Funziona Funziona E' quello lì il messaggero Il messaggero è arrivato Eccezionale C'è ormai si muove Poi più L'hanno pizzicato L'hanno immobilizzato O non ce la fa più Ta 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 Questo video Vuole essere di monito A chi osa Pestare i miei piedi Il sottofondo Il sottofondo sonoro E' assicurato da Come si chiama Roberto? E' assicurato che sta inchiodando un tetto di lamiera Il titolo è Fine di un tafano Dedicato a tutti i rompicoglioni E' assicurato che si muove 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 E' assicurato che si muove